Sono ragazzi che hanno cuore. Benvenuti a Inter. È ora per una nuova challenge in un grande club di Inter. Ci sono numeri che nella storia del calcio hanno un valore simbolico ben diverso rispetto a tutti gli altri. Sì, musica l'inza. Siamo in un momento e puoi in un'escezione. Mentre 4, rimane 4, numero 9. Numero 7, alla Stalento Sass. Cosa sarebbe il calcio senza i numeri 10? Inter Podcast Imani Non Mi